con i prossimi ospite, 24 ore di lavoro senza sosta per realizzare da zero un progetto strutturato, sostenibile e concreto è l'obiettivo di Avis Around the Clock, il primo Hacktown organizzato dalla consulta giovani nazionale e nasce dall'unione di due termini anglosassoni, questo Hack e Marathon, no? Hacktown per dare l'idea di affrontare una sfida nel tempo di una vera e propria maratona e con Filippo Pozzoli ne parliamo parliamo con Filippo, ciao Filippo della consulta giovani Avis nazionale Filippo, mi senti? Ciao a tutti, buona serata e un saluto agli ascoltatori Come stai? Intanto mi senti bene? Perché abbiamo un po' sempre di linee che vanno e vengono Mi senti bene? Mi sento un po' lontani ma ormai in questi periodi abbiamo imparato a comunicare in qualsiasi modo Abbiamo imparato a stare lontani Abbiamo imparato a stare lontani Abbiamo imparato a stare lontani Allora Filippo, eh Filippo scusami Sì Filippo poi c'è il tuo... Monimo Tuo Monimo Abbiamo due Filippi oggi Non si può sbagliare Esatto Ma come sei vestito bene in questa foto? Cos'era il matrimonio? Cos'era la foto del matrimonio? Ah, era quella di LinkedIn Ascolta, allora, niente, si parlava appunto di questo hackathon che dura 24 ore Ma cosa fate tutti i 24 ore di lavoro praticamente? Allora, sì, l'hackathon è una modalità L'Italia ha diffuso fino a un certo punto Qualche multinazionale la utilizza Qualche azienda, diciamo, con impostazione un po' più anglosassone Che internamente alla propria forza lavoro Ma anche aperto, volendo, al pubblico Utilizzano appunto queste grandi aziende Per trovare nuovi idee, nuovi progetti Dando come spunto un tema, una sfida Che viene solitamente rivelato solo in occasione dell'avvio Ed è esattamente come faremo anche noi In 24 ore Dei gruppi che si possono organizzare autonomamente Quindi scegliere quando fare pausa O quanto lavorare C'è anche qualche eroe che lavora realmente per 24 ore Tenta mai staccare gli occhi dal tavolo In questo caso, dallo schermo Al termine delle 24 ore Vengono consegnati i progetti 24 ore tassative Quindi al secondo zero Si chiude la finestra di consegna E poi una giuria valuta i progetti Più riusciti, più centrati sul focus che daremo E questi progetti Oltre chiaramente a prevedere dei premi Posso anticipare che sono premi abbastanza importanti Per i vincitori I progetti verranno poi sviluppati Internamente all'agenda di Avis Nazionale Quindi diventeranno i progetti formativi Per questo specifico tema Che Avis Nazionale Metterà in atto A partire da quest'anno E per i prossimi anni Quindi questo lo farete nella consulta Che avverrà il giorno Allora ci troveremo il sabato 6 febbraio Diciamo le ore di programmazione Di progettazione Saranno 24 quindi fino al pranzo di domenica 7 febbraio Durante queste 24 ore non è che i partecipanti sono abbandonati a loro stessi Saranno numerosi momenti di sessione con formatori Con tecnici Anche per aiutarli a progettare al meglio Quindi non solo formatori sul tema Formatori a Vigini Ma anche formatori che sappiamo dargli qualche tip Per confezionare un buon prodotto Quindi se non sbaglio Filippo Se non sbaglio Quelli che parteciperanno Saranno ragazzi dell'Avis Sono giovani Allora Gli requisiti per partecipare La partecipazione intanto Trovo l'occasione per dire Che è completamente gratuito Ed è rivolta a giovani a Vigini Tra i 18 e i 35 anni Quindi che siano soci Soci volontari Soci donatori Non è importante Tra i 18 e i 35 anni Da tutte le parti d'Italia Posso iscrivermi allora dai Esatto Sì tu ti iscrivi sei volte Volevo dire Ti aspettiamo Voglio anche ricordare A chi ci sta vedendo Sul sito di Rizio Favonsangue Sul sito di Radio RCS In Radio Visione Oppure su Radio Adige TV Sì Radio Adige TV domani Che se si diventa donatori Si diventa fighi come Filippo Perché guardando la foto Se uno è un donatore di sangue Ed è figo come Filippo Perché un conto è guardare me Ho conto è guardare Filippo Adesso Quindi ragazzi Che ci stanno No ma è anche un modo Per dire ai ragazzi Che ci stanno ascoltando E vedendo che Non fa per niente male Donare il sangue Anzi Anzi no Ringrazio per la stima Sicuramente non fa Assolutamente male Anzi Al di là di tutti quanti I vantaggi Oggettivi Che si ha nel donatore del sangue Quindi di essere controllati È qualcosa che fa stare bene Perché si fa un grandissimo Atti di solidarietà Senza sapere neanche Il destinatario Quindi è qualcosa che fa bene Prima di tutto allo spiego Poi devo dire anche al corpo È un'occasione per Pensare un po' Alla propria salute In un contesto in cui Di solito non lo faresti mai Colgo l'occasione per dire Che io non ho stia di vita Propriamente salutista Diciamo che anche Dei male regolarmente il sangue Ma per per gli occhi Anche banalmente Solo sull'alimentazione Io A 32 anni Tra poco Ho il colesterolo a 300 Che Manca un vecchio di solito Beh non parliamo di colesterolo Se andiamo a parlare di colesterolo Non finiamo più qui Filippo Quindi Abbiamo Diventa una bella gara Esatto Qua c'è il colesterolo Che viaggia a mille Quindi Però Abbiamo un minutino E ti faccio una domanda Io Io che Invece di avere 45 Vabbè insomma Tanti anni Ne avevo Ne avessi Ne avessi 25 No? E sto ascoltando Radio RCS In questo momento Che c'ho Filippo Pozzoli Che è Uno dei responsabili Della consulta Di Giovani Avis Nazionale Cosa Qual è Il modo Per convincermi A diventare Un donatore di sangue Tu che sei Giovane Ma io Penso che Ci sia Una Una sorta di mantra Che vale per questa Come per molte altre cose Prima a farlo una volta E poi vedete Se sei capace Di tornare indietro Una volta Che provi Quelle emozioni Fai fatica A Dimenticarti Come ci fa Sai che Dagli ANTA Ai 20 In generale I donatori Insomma Già 15 anni Che frequento Avis Mi dicono La stessa cosa Provalo La prima volta Vedrai che voi Non smetteremo È esattamente così Non c'è una scienza Non c'è Non c'è marketing È esattamente così Ti dedichiamo Una nuova canzone Adesso Del 2021 Appena uscita Filippo Da L'Eleon Con Galantis E Jake Che la dedichiamo Grazie Filippo A presto Ciao Grazie a voi Buona serata Ciao